oh beh noi siamo stati con la mano sul cuore siamo stati a celebrare questa meraviglia abbiamo voluto rivivere quel momento come se fossimo stati anche noi a Parigi per fortuna dell'Italia sportiva non c'eravamo io e te a Parigi chiara che già per sollevare il computer dalla scrivania ci devono venire ad aiutare ma c'era lei la leggenda vivente dell'atletica leggera italiana ladies and gentlemen a sua maestà Assunta Legnante buonasera ciao Assunta che bello chiamatemi Lisa oh ma che bellissimo vedi alla fine la scaramanzia ti ricordi c'era un fatto sopra tutto un discorso tra l'artistico e lo scaramantico l'ultima volta prima che partissi su questa mascherina adesso te lo posso dire io non ero per niente convinto che portasse bene invece vedi no perché invece ma secondo te una napoletana può portare male no ma per chiarità però mi sembrava andare a sfidare proprio con un simbolo così certo sfiderò ancora di più ma cosa che tipaccia che sei tu non puoi immaginare cosa ho in mente io no ma meno male che ci mancano ancora anni no no ma lo posso anche dire lo posso anche dire il 23 saremo tutti al Quirinale da Mattarella certo io regalerò la mascherina della della Gioconda a Mattarella dicendogli di riportarcela risosolta dicendo vedi io ci sono andata e ho fatto quello che dovevo fare presidente il resto lo faccio a lei che meraviglia che meraviglia Assunta è è bellissimo è bellissimo riaverti a questi microfoni perché tu sei una coconduttrice visto che ti disturbiamo di continuo la tua disponibilità non ho il contratto firmato va bene non mandiamo oltre la cosa meravigliosa è che appunto ci hai scherzato ma non troppo sulla questione scaramantica ma in realtà tra Tokyo e Parigi in questi tre anni nonostante ci sono stati tanti tumulti, tanti ostacoli è successo un po' di tutto ma la tua strada era chiarissima e tracciata l'altro ieri ho tolto le medaglie di Tokyo dall'entrata e le ho messe a posto perché erano un promemoria almeno una doveva diventare d'oro e me la ricordo questa cosa ecco a proposito di togliersi un peso adesso lo possiamo dire ancora più compiutamente è chiaro che sembra sembra un'esagerazione dire che è un podio paralimpico dire una cosa che te è rimasta qua però era vero quella medaglia te era rimasta qua sì 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 assolutamente quella del peso soprattutto quindi anche perché non mi piace essere seconda soprattutto nel peso posso invecchiare posso fare anche due tre metri in meno rispetto a qualche anno fa però devo arrivare prima il peso è il mio è il mio ecco ed è una cosa che hai detto urbi e torbi proprio ti sei presentata e l'hai l'hai dominata questa gara non c'è stata praticamente discussione nonostante il valore ho giocato ho giocato addirittura ho giocato sembra da da guascona no ma ho proprio giocato nel senso che io sono stata felice quando l'Utbeca ha lanciato 14 metri perché perché mi ha stimolato non abbastanza per fare di più ma se avesse fatto di più io avrei potuto fare molto di più perché in allenamento ho superato i 15 metri l'anno scorso ho fatto 15 e 60 ecco questa è un'impressione che addirittura dalla tv si era avuta che per quanto la Burcanova che peraltro era lei quella che ti aveva tolto lo scettro tre anni fa lanciasse cioè se foste andare avanti ricordiamo Ipovedente lei sì sì lei Ipovedente lo ricordiamo ecco se avesse continuato a lanciare bene meglio sareste andata avanti un paio di giorni perché tu gli avresti sempre fatto un centimetro di più sì 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 ma anche più di un centino perché poi a un certo punto ero pronta ad ammazzarla la gara ma ho visto che non ce n'era bisogno quindi mi sono tenuta sul tranquillo sei stata una delle atlete fortunate di questa Paralimpia di arrivata in forma e insomma consapevole di quello che potevi fare ci sono stati tanti episodi invece che magari hanno insomma un pochino sono andati a così all'edere no prestazioni che potevano essere anche di alto livello ma insomma ci vuole anche tanta fortuna parliamo di caso di karma quindi l'importante è poi arrivare al 100% come ho sempre detto e ripeto in questi giorni io ho fatto un lavoro anche mentale con il mio mental coach che mi segue da un anno e non si deve arrivare a queste gare al 99% nemmeno al 110% al 100% e io ero arrivata pronta a combattere proprio perché volevo quella medaglia non ci sono riuscita nel disco nemmeno stavolta ma lì me lo posso perdonare perché ripeto non è la mia gara è difficilissimo girare per me perché senza vedere non avere un punto di riferimento è un casino però dai almeno una la dovevo portare a casa e ci sei riuscita come sono state queste Paralimpia di rispetto alle precedenti anche per la presenza di questo pubblico che insomma sembra essere stato l'elemento più importante no? io le paragono le ho paragonate a quelle di Londra perché 80.000 90.000 spettatori tutto il giorno è impressionante non ho sofferto molto questa cosa perché poi con l'età anzi sai gestire anche i rumori il casino il tifo quindi sei concentrata sulla tua gara sul tuo gesto quindi non mi ha dato tanto fastidio però posso posso immaginare che a tanti abbia dato un bel brivido un bel brivido questa cosa che hai detto mi fa insomma mi fa formulare la domanda l'altra domanda perché tu giustamente hai detto con l'avanzare dell'età ci si abitua a certe dinamiche riesco però quali sono i pregi di andare avanti con l'età e naturalmente i difetti che riguardano più l'aspetto immagino atletico i pregi sono proprio quelli che ho appena elencato che comunque l'esperienza ti porta a non soffrire a non avere più quel tipo di ansia negativa nelle competizioni importanti i difetti l'età avanza i metri si abbassano i dolori aumentano inevitabile dici poi insomma i cartilaggi mi spariscono nonostante ciò alle prossime parolimpiadi ci sarai con la testa adesso vediamo se il fisico mi ci accompagnerà però tu stai lavorando per si io penso di cominciare la preparazione vabbè anno dopo anno vedremo come va anche perché manca tantissimo stiamo parlando di 4 anni avrò 50 anni quindi se ho 50 anni riuscirei ad andare andare a segno anche lì veramente definitivamente nella storia la statua di panna a Napoli no vabbè ci sono atleti paralimpici che gareggiano anche a 53 io ricordo anche Mazzone ricordiamo la Porcellato o lo stesso Zanardi quindi non sarei l'unica il problema è che io non dimentichiamo che faccio sport da più di 30 anni già adesso e davvero le mie ginocchia spalle schiena ogni giorno mi chiedono oh ma che fefa basta però la tua risposta però è lasciatemi fare lasciatemi fare so cosa sto facendo so cosa sto facendo però senti ovviamente le celebrazioni essendo tu da da tanti anni non sei certo una scoperta anche a livello mediatico chiamiamolo mainstream sono tanti anni che sei importantissima per l'intero movimento paralimpico ti voglio chiedere per questo se nel corso degli ultimi anni vista la copertura di questa paralimpiade pensi che sia arrivata a un livello d'attenzione generale quello che merita perché hai vinto le tue prime medaglie in quello che era un ghetto dal punto di vista mediatico adesso è un'altra vita per gli atleti paralimpici sì assolutamente adesso siamo visti come atleti a 360 gradi non siamo più i disabili che fanno sport per hobby per passare due ore fuori di casa la medagicità è arrivata a un punto quest'anno penso che sia stato il top a parte la Rai che ha dato una copertura quanto e come quella delle Olimpiadi ma anche sui social spettacolare la partecipazione di tutti ci sono stati atleti della nazionale italiana che hanno avuto un boom sui social ma semplicemente anche solo per l'auto ironia che magari abbiamo usato quindi ben ben venga tutto questo ecco in generale il movimento italiano se guardiamo al semplice e ci metto tante virgolette intorno Palmares è cresciuto in maniera pazzesca perché sono due Olimpiadi in cui viene fatto il record in alcuni sport comunque c'è un buon ricambio ecco qua andavamo alle dolenti note e l'hai toccata già tu il tema perché se squadre come quella del nuoto che sono fenomenali danni ma continuano a sfornare talenti sempre più giovani probabilmente nell'atletica leggera questo sta avvenendo in maniera estremamente più rallentata è più difficile anche più competitivo l'atletica è difficile emergere io non non metto in dubbio che nel nuoto siano fortissimi grandissimi anche perché ti ci devi trovare in una manifestazione del genere e vincere però forse è la competitività che è maggiore cioè noi abbiamo comunque nazioni che nel nuoto non esistono e che vincono medaglie ma sia a livello olimpico che paralimpico è la stessissima cosa e questo fa molto e comunque sì noi abbiamo un ricambio generazionale molto rallentato io l'altro giorno ho fatto una battuta io vorrei sapere come fanno i cinesi che struttura di reclutamento hanno perché ogni ogni anno ogni due anni ogni tre anni loro ne tirano fuori tre quattro cinque dieci ma anche semplicemente nella mia gara del disco a parte la Zang che vince da anni quella che è arrivata terza che poi ha vinto i mondiali a Kobe a maggio che poi è arrivata non mi ricordo seconda al mondiale a Parigi cioè escono fuori come i funghi diciamo che un materiale umano di partenza così vasto insieme a quello che è chiaramente un programma una struttura di reclutamento assurda cosa che in Italia purtroppo non c'è è abbastanza chiaro che la Repubblica Popolare ha puntato sullo sport noi non abbiamo non vedenti che corrono che lanciano che saltano non ci sono eppure non penso che in Italia non ci siano giovani non vedenti è questa la domanda che ti volevo fare mi ha anticipato nel senso credi che sia una questione culturale una questione di struttura culturale prima di tutto però si sta sdoganando anche questo io ti faccio un esempio io mai come in questi ultimi anni vedo scusate se uso il termine vedo non vedenti sui social che fanno video che fanno gli influencer addirittura sì 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 e questa cosa vuol dire che comunque si sta sdoganando un pochettino l'importante è far capire magari ecco a giovani non vedenti perché purtroppo ci sono anche bimbi che nascono non vedenti che comunque lo sport può essere un'opportunità ecco io con tanti dirigenti ma anche atleti e esperti mi trovo spesso ad affrontare il discorso del ricambio e ad arrivare a una conclusione che suona pure antipatica alle orecchie di chi ci ascolta perché ci sono delle ragioni per carità ma in questa impostazione culturale che andrebbe proprio ricostruita alla radice dovrebbe far tanto il dialogo con le famiglie e con i genitori bravo ma infatti è quello che dico io io quando vado nelle scuole a parlare della mia storia o a far capire magari che la disabilità non è un modo per non vivere cioè non è non essere una persona viva io non vorrei parlare con i ragazzi io vorrei parlare con i genitori perché io penso che una volta che ci hai parlato dentro una scuola almeno la metà della classe gli è venuto in mente ma posso tirare un peso ci posso provare cosa che avevo detto io ai tempi perché ero ignorante del mondo è chiaro poi però magari arrivo a casa è un malinteso senso di protezione che ti fai male ti casca addosso lo vivo lo vivo lo vivo io lo vivo io quando torno non quotidianamente ma quando torno in famiglia magari con un padre di più di 70 anni io sono sono un gioiellino da tenere lì che non può fare nulla perché comunque si fa male mio padre penso che non sa nemmeno che vivo da sola o almeno lo sa ma pensa che non sia vero e sì perché oltre ad esempi del genere su cui possiamo sorridere c'è però una questione che poi ci riporta da dritti all'ambito sportivo ma in generale si allarga col discorso dell'autonomia che appunto ci riporta a una tematica di tipo educativo e anche genitori vanno vanno educati affinché riescano ad educare in maniera corretta in tutto ciò c'è bisogno di un sistema che formi i formatori e gli dia dei fondi qua è ovvio che andiamo ai massimi sistemi perché forse fin troppo raccogliamo considerato perché viene messa a disposizione torno al discorso di prima della Cina io penso che quel reclutamento avvenga dall'alto avvenga dallo Stato stesso è una direttiva politica la Cina ha scelto 40 anni fa di diventare un'eccellenza mondiale attraverso lo sport oltre che nel resto investendoci pesantemente mica aspettano che esca uno bravo in una qualche disciplina sono accademie di Stato diffuse ovunque scuole per una volta dovremmo essere noi a fare la copia di quanto di buono fanno i cinesi visto che non si deve mai smettere di imparare senza imbrogliare però e senza imbrogliare è chiaro la copia fatta meglio io sono l'unica non vedente totale che lancia il disco continuerò a dirlo sempre sì non sbaglio affatto quando non rifanno le classificazioni alle cinesi fai stra bene a sottolinearlo così come abbiamo fatto bene a sottolineare guarda ci siamo praticamente ci siamo persi tutta la parte statistica che chiunque ti intervista in questi giorni ovviamente ricordi tre ore perché vabbè stiamo talmente a casa non sono l'unica no certo che non sei l'unica però con te riusciamo oltre la tua sfrenata simpatia riusciamo a toccare temi a livello sportivo ecco assunta io te lo dico il giorno che te stufi tu devi tu lo devi guidare questo sport italiano eh magari me lo facessero fare non mi fanno portare manco una bandiera figurati mi fanno guidare eh qua qua questo non c'hai giudito qua non c'è piaciuta non c'è piaciuta per niente questa cosina non so infatti non ti torti ma guarda per come è andato quest'anno sono contenta nel senso che c'è la maledizione del portabandiera sì infatti tra Cambelli e Ambra mi è dispiaciuto tantissimo quindi va bene quello è vero senti un ultimissima l'episodio più divertente di di Casa Italia quello che non è stato attenzionato dalle telecamere qual è stato che ti porti nel cuore che momenti extra extra pedana di questa parambiente più che di Casa Italia più che di Casa Italia perché ci sono stata una sera sola dopo la medaglia del peso vabbè che poi è un luogo di raccolta ecco tra tanti italiani festeggiamento delle medaglie interviste così il villaggio comunque resta e rimane il luogo più aggregativo quindi poi io sono stata fortunata perché quest'anno ero in camera con la fisioterapista quindi avevamo il lettino dei massaggeri la mia camera era un po' un porto di mare ma contentissima perché avevo avuto la possibilità di parlare con quasi tutta la squadra dell'atletica quindi va benissimo così quelli sono momenti che ti terrai sempre dentro bello adesso un po' di riposo assunta assolutamente adesso ci sono queste cose burocratiche da fare interviste mattarella e tante altre poi a ottobre riprendiamo piano piano anche perché se le voci rimangono quelle ci dovrebbero essere i mondiali l'anno prossimo in un luogo che a me non fa impazzire ma dovrebbero essere a novembre quindi c'è tempo a novembre e dove? si ha detto così con l'idea ce l'ho ecco dillo dillo non lo so forse in Qatar dove hanno fatto i mondiali no India ah beh forse però non è non è sicuro quindi vedremo voci di villaggio noi aspettiamo di vedere la scena della mascherina a mattarella ormai ce l'hai promessa assolutamente assolutamente ne riparleremo io la faccio anche indossare anche solo senza metterla senza metterla almeno almeno davanti agli occhi la dovrò ammettere a te non si può ribellare ma tanto vi siete visti tante di quelle volte col presidente siete amici assunta grazie grazie di cuore intanto per l'orgoglio l'orgoglio che ci fai palpitare nel cuore quando ti sosteniamo da leggenda vivente dell'atletica italiana e quando abbiamo la fortuna di farci queste chiacchierate che sono chiacchierate proprio tra amici qui a questi microfoni grazie ancora buona giornata e buon lavoro a prestissimo e va bene assunta assunta lasciateci questa questa libertà insomma di esprimere le nostre preferenze ogni tanto però insomma assunta è veramente un personaggio incredibile che sa veramente che non abbia giustamente qualche riconoscimento in più dal punto di vista proprio sportivo ecco ha detto la voleva portare la bandiera ci è rimasta male però subito dopo la scaramanzia è perché è napoletana ha detto la napoletana comunque controlla un po' tutta la situazione alla fine è stato meglio così io le avevo suggerito invece la mascherina con la con la maschera rossa della stella della sena è la stella della sena te lo stavo per dire quella era una bella e invece e invece guarda caso ha avuto ragione lei e non io chi l'avrebbe mai detto con la gioconda chi l'avrebbe mai detto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti